Udienza drammatica stamattina nel processo in corte d'assise che si sta celebrando a Nuoro per l'omicidio di Dinadori avvenuto il 26 marzo del 2008 a Gavoi. Sul banco degli imputati il marito della donna Francesco Roca accusato di essere il mandante di un omicidio per il quale è stato condannato come esecutore materiale per Paolo Contu. Stamattina sul banco dei testimoni si è seduta Anna Guiso assistente di Roca nello studio dentistico di Nuoro e poi il suo amante per un breve periodo. La donna all'epoca 22enne ha ricostruito incalzata dal pubblico ministero Danilo Tronci non solo il giorno del delitto ma anche come divenne l'assistente dell'imputato e come il rapporto professionale si trasformò prima in rapporto sentimentale e poi in una repulsione profonda tanto che la donna temeva di essere uccisa da Roca. La giovane divenne assistente per sostituire Dinadori che aspettava la figlia. Roca si rivolse al fidanzato di Anna Guiso, Antonio Più, col quale intratteneva rapporti di natura politica finché gli indicasse una ragazza. Alla fine fu Anna Guiso ad essere assunta. Una relazione che prima si interruppe e poi divenne più intensa alcuni mesi dopo la morte di Dinadori. Anna Guiso ha ricostruito anche la sera dell'omicidio, il viaggio da Nuoro a Gavoi con in macchina Adriana Manca. La telefonata di Roca che le diceva di recarsi subito a casa sua perché Dinadori non si trovava. La Guiso che è stata sentita dagli inquirenti solo nel 2010 ha poi raccontato del rapporto sentimentale primo intenso e poi interrotto dalla ragazza che si licenziò anche nel 2009 dallo studio di Roca. A questo fatto seguì la reazione del dentista che la seguiva ovunque, le lasciava bigliettini e mandava sms. A queste attenzioni seguirono minacce nei suoi confronti e del suo fidanzato. Comportamento a limiti dello stalking che incontrava timore nella ragazza tanto che scrisse una lettera in cui ricostruiva il rapporto col dentista e che consegnò ad Antonio Piu. Questo nel timore che Roca ossessionato da lei la uccidesse e poi si suicidasse. Anna Guiso ha anche parlato dell'auto nera che Roca le aveva detto di aver visto sotto casa alcuni giorni prima del delitto. Quanto al fatto che Dinadori sapesse o meno della relazione, Anna Guiso ha detto che probabilmente qualche sospetto lo aveva. Prima dell'ex amante di Roca il PM ha sentito il giovane che all'epoca aveva otto anni e che aveva visto salire lungo via Carlo Alberto un uomo mascherato che con fare trafelato si allontanava dal paese. Ascoltata anche la madre del giovane, i due sostanzialmente hanno confermato le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.